Ehi Carlo! Ehi Alan, figliolo! Ti mostro una cosa, vieni! Quando la venderemo andrà a ruba, altro che valenciaga! La gente impazzirà per questa! Ah, quanto spacca! Nuova moda natalizia, solo da Lidl. Che merda! Che merda, questo è il futuro! Immagina la rivenduta su ebay, queste le vedrai in ogni armadio d'Italia. La gente si ammazzerà per averne. Che c'è? Niente. Alan! Grazie mille. Che stai facendo qui? Ti ho sempre detto di non venire. Ti puzzano i piedi. Per questo sono qui. Alan, ne abbiamo già parlato. Cambiare scarpe non farà sparire il fetore. Ascolta. Se i tuoi amici ti picchiano, fanno proprio bene. È così. Senti, la prossima volta lascialo fuori, magari si lava. Sì, mi scusi, capo. Ah, che cos'è che volevi farmi vedere? Solo un secondo. Ma che cazzo! Chi è stato? Quindi? Sono stato io. Era una merda. Ti è piaciuto? Sì, sì, il video è carino e pot... No! Ti è piaciuto? Certo, mi è piaciuto. Ho detto che... Bene, iscriviti adesso e seguili su Instagram subito! Dai! Sul serio, supportateli, seguiteli! Non so perché siete ancora qui. Devo chiederlo tipo... Ehi tu! Iscriviti! Meglio farlo subito. Ciao!